Rap reaction in diretta, vai! Tu devi fare le facce, tipo... Ah, guarda cosa ha fatto! Vediamo, vediamo, ma non siete niente! Adesso deve ancora partire... Vai, vediamo un attimo... Un secondo, eh, scusatici, ma... Logo di Italia 1 in apertura... Che hit! Vestito adidas totale... Dove ha girato il video? Sotto ai palazzoni, penso, sempre in zona da lui... Scampia! No, è sempre scampia, si suole vedere! Ah, i fuochi d'artificio... Fuochi d'artificio... Bello, cacchio! Grande Enzo Dong! Grande, credo che l'abbia fatto Johnny Dama, che di solito è quello che ha fatto, che ha curato tutti i suoi video, e se è lui ha alzato ancora di più il livello, quindi grande pure Johnny! Dunque, produzione hit, pezzo hit!